Operazione antidroga della Polizia Casoria. Due giovani napoletani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e uno anche per detenzione di armi clandestine. I fatti, ieri sera, quando i agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Scampia e Poggioreale hanno controllato alcuni appartamenti di uno stabile nella zona periferica di Casoria, dove si sospettava potesse trovarsi della droga. E in effetti, nell'abitazione di un 32enne, gli investigatori hanno rinvenuto 10 involucri di marijuana del peso di 1,2 kg, 10 panetti di ascisce del peso di 5,4 kg e un contenitore metallico contenente 60 grammi di marijuana. Inoltre, in una bombola di gas vuota, ideata con un sistema creato appositamente per consentirne l'apertura, i poliziotti hanno rinvenuto tre pistole con matricola brasa e 182 cartucce di diverso calibro. Nella casa di un 31enne napoletano invece sono state trovate 7 buste contenenti 1,140 kg di cocaina, 114 involucri per un peso pari a 50 grammi sempre di cocaina, 4 bilancini di precisione e 4.970 euro ritenuti frutto dello spaccio.